Ciao a tutte e tutti sono Michele Fiorillo della coalizione Citizen Takeover Europe con cui sosteniamo fortemente l'iniziativa delle assemblee dei cittadini a livello europeo e quindi anche a livello italiano con politici per caso. È molto bello che ci siamo riuniti proprio plasticamente con un'assemblea pur in queste condizioni difficili davanti al Parlamento italiano, un'istituzione della democrazia rappresentativa proprio per mostrare come la democrazia rappresentativa può essere integrata dalla democrazia deliberativa e partecipativa. Questo è qualcosa che è stato sperimentato con forza già in altri paesi per esempio in Belgio dove per ben due anni in assenza di un governo cittadini e cittadini si sono riuniti in circa mille persone in una grande assemblea per decidere insieme dei destini del loro paese. La stessa cosa credo si potrà fare se riusciremo a moltiplicare quanto fatto oggi nei prossimi mesi e a essere mille e anche di più per deliberare sul cambiamento climatico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.